I vaccini non riconosciuti sono un problema non solo per il turismo ma per l'intera economia. Lo sostiene Marina Lalli, presidente di Federturismo Confindustria. Sentiamo. Turisti e lavoratori provenienti da più parti del mondo, pur vaccinati, non possono entrare in Italia e usufruire di servizi che oggi richiedono un green pass rafforzato, come hotel, ristoranti, mezzi di trasporto. Il motivo? Sono stati vaccinati con Sputnik o Sinovac, farmaci non riconosciuti in Europa. Si tratta di persone provenienti da Cina, Russia e paesi del sud-est asiatico, un mercato imprescindibile per la nostra economia, dichiara Federturismo Confindustria. Proprio la Puglia è meta di turisti russi in arrivo a Bari sulle orme di San Nicola di Mira. La questione è politica e il governo, dichiara la presidente dell'organizzazione Marina Lalli, deve intervenire al più presto per riconoscere la validità dei vaccini non approvati dall'Agenzia Europea. Una misura fondamentale per incentivare la ripresa del turismo, che anche quest'anno ha registrato un meno 38,4% di presenze negli esercizi ricettivi, rispetto al 2019 del business travel, ma anche di altri settori che negli ultimi periodi hanno sofferto molto l'assenza di questa clientela. A Marina Lalli si aggiunge il presidente di Federmacchine, Giuseppe Lesce, per cui il rapporto con gli operatori di mercato russi o asiatici, ad esempio, è fondamentale in modo particolare in questa fase di ripresa. L'attuale situazione, ribadisce Lesce, costituisce per alcune aziende un ostacolo operativo che deve essere superato.